Allora, cari amici, oggi siamo qua per parlare di una penna di cui è già stato detto molto. La vedete qua, si tratta di una Pinaida alla grande bellezza, è una penna che c'è già sul mercato da qualche anno e mi è stata gentilmente prestata dal mio caro amico Bruno e lui mi ha detto ma prova a divertirti un po', fai vedere, insomma, parla diciamo da calligrafo delle tue impressioni su questa penna, io lo faccio volentieri. Allora, cosa dire? Sicuramente è un top di gamma per quanto riguarda la Pinaida, che insomma è un'azienda conosciutissima, specialmente nel settore cartario, infatti la penna arriva in uno splendido, praticamente piccolo scrittoio, adesso non ce l'ho perché non mi è stato dato da Bruno, ma penso che molti di voi l'abbiate visto, viene fornito peraltro tal quale anche nelle versioni di gamma inferiori alla grande bellezza. È veramente un piccolo scrigno di bellezza quel contenitore, definirlo scatola, è un po' riduttivo, è veramente un piccolo scrittoio molto bello e contiene della carta, delle buste, dei biglietti, dei Pinaida molto belli, quindi la carta è veramente massimo livello, livelli scusate. La penna appunto, la penna nasce su un concetto, un progetto di Dante del Vecchio che come molti di voi sanno ha lavorato con Pinaida e ha tirato fuori diciamo questi modelli di successo portando diciamo molte innovazioni in questo campo. Allora la penna è questa, è una penna in resina, molto bella, cioè si vede subito che è una penna di pregio già tenendola in mano, la qualità è veramente elevata in ogni singolo dettaglio e quindi quello che colpisce subito è che la chiusura è magnetica, vedete? Quindi ho questa innovazione simpatica, può piacere o no. Personalmente io preferisco quelle che si avvitano, però non mi dispiace questo sistema di chiusura. Anche la calamita qua, quindi ho anche la tenuta quando chiudo il cappuccio, però chiaramente è una penna abbastanza pesante, in questa condizione col cappuccio diventa faticosa, pesante, ingestibile. Allora la particolarità di questa penna, poi sono altre, sono diverse le cose che riguardano questa penna. Allora, innanzitutto qua sulla veretta c'è una grossa veretta qua, dove oltre alla marchio Pinheider stampigliato qua in corrispondenza della clip, poi ne parliamo anche, sul retro c'è quel famoso pangramma inglese che voi tutti conoscete, quello The Quick Brown Fox, insomma quella frase che avrete sentito nominare tante volte. Ecco, magari io, cioè ci può stare quella frase lì, però siccome è scritto praticamente in uno stampatello minuscolo, secondo me sarebbe stata una cosa molto bella realizzarlo magari con una scrittura a mano. Secondo me l'apporto della carigrafia, quella vera, è veramente notevole ed è grande quell'apporto. Purtroppo le persone che fabbricano penne non l'hanno ancora capito. Poi vi farò vedere su altri video delle penne che ho personalizzato e vi renderete conto dell'enorme differenza che ci passa tra una penna personalizzata con una carigrafia a mano piuttosto che con anonimi font, ma detto questo è una considerazione personale, puramente personale. La clip è lodevole, è una clip che raffigura una penna d'oca, penso, ha proprio la forma... ricordatevi sempre che penna d'oca non piuma d'oca, no? Ci tengo a questo concetto perché si parla proprio la penna, si chiamano penne perché deriva dal fatto appunto che si parlava di penne d'oca. Le piume d'oca sono altre cose, ci si fanno i piumini, ci si fanno il giacca a vento, altri indumenti, altre cose. Gli antichi usavano la penna d'oca, ok? Ha una molla molto comoda, quindi si aggancia molto bene al taschino, insomma ha questa forma che non rovina assolutamente il tessuto, quindi la clip assolutamente lodevole. Il materiale, l'ho già detto, è veramente al top, una resina molto molto bella, quindi si vede una penna di pregio. Ecco, poi per chi ha visto il mio video di qualche giorno fa, avevo già proprio fatto vedere questa penna a grande bellezza, dicendo che personalmente non amo molto la zona di prensione libera così con il metallo, perché? Perché l'avrei preferito più così, in continuità di resina, però quando ho fatto questa scelta penso anche stilistica e di design e anche di colore, sicuramente magari è anche bello da questa dicotomia di colore, però ha un problema secondo me, che è quello che dicevo nel mio precedente video, questa zona è completamente liscia, mentre questa zona è appunto godronata, come vi ho detto, quindi c'è una zigrinatura leggera, che io l'avrei preferita anche in questa zona, perché a quel punto avrei avuto un grip tra polpastrelli, quindi la mia mano, il mio arto, e lo strumento eccezionale. In questo caso io lo sento che mi scivola un po', non ho una prensione proprio, a me piace lo strumento saldamente attaccato alle mie dita, purtroppo in questo caso non ce l'ho e secondo me in condizioni di forti temperature tipo quelle estive un po' la penna mi scarrella in mano, ecco questa cosa, invece se fosse stata, vedete, in questa zona è tutta zigrinata, anche qua non avrei avuto quel problema. Poi questa scampanatura va bene, è un po' rilevante, ma ci sta bene, la mano, cioè le dita, non possono scendere più giù di quello, la penna è molto bilanciata, sto parlando senza cappuccio, quindi la penna è pesante, ma quando va in posizione, perché le penne non vanno pesate un tot a chilo come le cipolle e le patate, cioè vanno poi messe in posizione di scrittura e lì vanno valutate se hanno un bilanciamento o meno, questa ce l'ha direi più che buono. Il pennino è un pennino F in oro, 14 carati e ha, vedete, un pennino soft, ha quelle fenditure, vedete questi tagli, ecco anche qua. Purtroppo li fanno tutti per alleggerire i pennini, ma secondo me è un grosso sbaglio tecnico, purtroppo continuano a sbagliare, chi fa penne non ha capito bene come funzionano i pennini, ne parleremo in maniera più approfondita. Chiaramente non è un pennino calligrafico, è un pennino secondo me semi elastico, perché vedete ha un molleggio, però vedete che un tratto fine, se schiaccio ingrandisce, diventa più spesso, ma non, cioè il contrasto fra questi due, tra questo e questo, non è così grande da permettermi che so, un corsivo inglese. Adesso ci provo, ma non ci riesco più di tanto. Viene fuori qualcosa di lodevole, ma questa penna non nasce sicuramente con quell'intento. parte il fatto che per fare quello che sto facendo sto impiegando molta forza e non ci va forza per scrivere, perché se no ci si stanca e mi fermo qua perché già mi sto stancando. Ecco, questa penna diciamo che è un cavallo di battaglia per scritture veloci, ecco, in quel caso lì, quindi scrittura da da corsivo fluente corrente, da appunti, insomma da scrittura quotidiana. Ok, quindi... Ho scritto molto molto veloce, la penna mi segue veramente bene, quindi... E' un piacere usarla. Sono andato proprio velocissimo e quindi vedete che la penna mi segue molto bene. Posso anche tentare di fare il solito lavoro dei contrasti, però sono veramente al limite perché... però un po' si vede perché... un compendino soft... però vedete non è così elevato il contrasto come sempre per il problema che vi dicevo, cioè l'esecuzione della calligrafia va fatta sempre col contrasto, ok? La calligrafia, la bellezza della calligrafia è il contrasto, è proprio l'essenza stessa della calligrafia è proprio questa cosa qua. Quindi quando non ce l'ho, purtroppo non riesco a fare calligrafia a tutti gli effetti, però faccio scrittura. Cioè avete visto una penna, mi è mancata forse qualche volta, ma sono andato veramente rapidissimo. Però un comfort di scrittura veramente, veramente notevole. Piena velocità, lei mi segue sempre, non c'è problema, riesco a fare veramente delle cose molto molto belle, la penna mi segue veramente bene, diciamo soddisfa bene quelle che sono tutte le mie esigenze. poi giusto per... adesso poi vi faccio vedere ancora una cosa per farvi vedere una roba relativa al contrasto, quindi la chiudo qua. Ecco, caricamento, vedete, ha il suo converter, è stata caricata con uno dei miei inchiostri ferrogallici però adattati per le penne stilografiche, va molto molto bene con questa penna, quindi ho un po' lubrificato, ho un ottimo inchiostro, quindi che dire, è una penna che mi soddisfa molto, ma appunto io sono sempre dell'idea di dire quello che mi convince, quello che mi convince, meno nelle penne. Diciamo la cosa che non mi convince molto appunto è questa cosa qua. Per il resto c'è poco da dire, è un'ottima penna, mi soddisfa e dà piacere usarla per una scrittura, però ripeto, eminentemente quotidiana, corrente. Poi qualcuno di voi potrebbe anche chiedersi relativamente a cosa ho detto prima sul contrasto. Allora, in queste penne qua è questa cosa qua, sui pennini a punta fine è questo, sui pennini a punta tronca ho i cosiddetti anche brod, ma io lavoro con gli italici. Ecco qua ho una volgarissima gennaio 159 vecchia serie che mi sono fatto da me con un pennino da 1 e 1, vedete, ho un po' martoriato la punta, mi sono fatto il pennino. Uno può dire, ma su una punta tronca dove lo trovo il contrasto, vedete, ecco il contrasto è qua, lo vedete, anche qua ce l'ho, il contrasto è questo. Perché facendo, ecco vedete, riesco, la calligrafia è fatta di queste robe qua, cioè nel movimento che applico, nei movimenti, posso avere delle zone molto sottili e delle parti molto spesse. E questa cosa qua mi dà l'opportunità di arrivare a fare, insomma, tutte le cose che riguardano la calligrafia formale a punta tronca. Quindi, ecco qua, sto facendo un onciale, e tutto questo è possibile solo perché ho una punta tronca, ok, la vedete? L'ho fatta volgarmente io, ho tranciato proprio con una, mi era caduta la penna, insomma, con pochissimo, cioè non ho buttato il pennino ed è molto performante, è assolutamente performante e posso anche scriverci anche velocemente, la penna mi segue benissimo. Insomma, su questa cosa magari vi faccio poi un altro video. Tra le altre cose, ecco, scusate, sto vedendo che aveva perso un po' il fuoco. Ecco qua. Ok. Tra le altre cose, questa è una penna micidiale perché mi scrive anche in posizione reverse, vedete? Diventa un po' più chiara la scrittura perché diventa un po' più arida l'alimentazione, però vedete? Sembra quasi una brush. Niente, piccola divagazione, ma era importante farvi capire che questo e questo sono la stessa cosa. Contrasto. Senza contrasto non si fa calligrafia, assolutamente. Con questo, boh, la mia, diciamo, piccola recensione sulla grande bellezza l'ho fatta, spero vi sia piaciuta e vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.